Poco più di vent'anni fa, nel 2001, il 2001 era più di vent'anni fa, questa cosa mi fa paura, ma non importa, poco più di vent'anni fa, nel 2001, sulle televisioni italiane impazzava una pubblicità, la pubblicità del Fiat Doblò. Ora, il Doblò era una macchina assolutamente dimenticabile, ma la pubblicità era meravigliosa. Era una pubblicità basata sul fatto che la Fiat fosse diventata lo sponsor ufficiale della nazionale giamaicana di Bob. La cosa sembra uno scherzo, perché il Bob è uno sport invernale che si corre scendendo lungo delle piste di ghiaccio, e penso che nessuno immaginerebbe un canalone di ghiaccio in cui far correre un Bob in Giamaica, che è un'isola dei Caraibi. Eppure, nonostante la pubblicità fosse molto divertente, non era una butade, era reale, la Fiat all'epoca era realmente sponsor della nazionale giamaicana di Bob, e realmente esisteva dal 1988 una nazionale del genere di un'isola che il ghiaccio non lo vedeva nemmeno con l'anternino. La storia di questa nazionale è stata molte volte raccontata anche in un film come un piccolo miracolo, come se si trattasse di quattro persone che improvvisamente decidono di prendere un Bob, partecipare alle Olimpiadi e riuscire in un'impresa incredibile. Invece, nonostante sembri del tutto folle, come spesso capita alle storie di sport, è una storia di sognatori, ma di sognatori che si impegnarono per raggiungere il loro obiettivo, per partecipare a quelle Olimpiadi e parteciparvi nel miglior modo possibile. Quindi oggi cercheremo di raccontarvi questa storia, quella reale, non quella della pubblicità, non quella del film, cioè la storia di come quattro giamaicani, che forse nella loro vita fino a quel momento non avevano mai visto né neve né ghiaccio, parteciparono alle Olimpiadi nella gara di Bob. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Come vi dicevo nell'introduzione, sulla storia che vi racconterò oggi è stato girato un film che si chiama Cool Runnings, un film che racconta proprio la storia di questa squadra giamaicana di Bob, raccontando di come quattro atleti giamaicani, incontrato un ex campione di Bob, per varie motivazioni, trovato in Giamaica, decisero di iniziare a praticare questo sport. E come, allenandosi con degli improbabili carretti, fossero riusciti a guadagnare abbastanza soldi per presentarsi alle Olimpiadi per poi partecipare. Inutile dire che la storia, per quanto affascinante, non è assolutamente questa. È una storia molto più sportiva di quanto possa sembrare. La storia reale inizia nel 1987, quando George Fitch, che era un membro dell'ambasciata statunitense in Giamaica, ha un'idea. Ora, secondo alcune fonti, Fitch era un milionario, ma in realtà secondo altri no, e devo essere sincero, non sono riuscito a trovare quale delle due abbia ragione, ma la maggior parte questa cosa non la nomina, quindi prenderla con le pinze. Ad ogni modo, Fitch era un grande appassionato di sport, e quando arrivò in Giamaica si rese conto di come il popolo giamaicano fosse un popolo molto portato per lo sport, soprattutto per l'atletica, e questo credo lo sappiate tutti, pensate solo ai risultati che un'isola così piccola riesce spesso a raggiungere nella corsa. Nonostante questo, Fitch aveva un'idea in testa, cioè quella che secondo lui non vi erano limitazioni per i giamaicani, che, ripeto, fino a quel momento avevano partecipato ad alcuni sport e non altri, e che fossero talmente bravi nella preparazione atletica, che con un minimo di addestramento avrebbero potuto partecipare a qualunque sport, anche a sport apparentemente lontanissimi dalla loro isola, come appunto quelli invernali. Secondo quanto lui stesso raccontò, un giorno scoprì che in Giamaica si facevano delle corse con dei carrettini. Erano proprio dei carrettini con un pianale, delle ruote, su cui uno, due, altra volta quattro atleti si salivano e si buttavano giù da delle colline. Molto spesso la cosa era una vera e propria gara, tra due o più carrettine, altre volte si misurava semplicemente il tempo, ma lo scopo era ovviamente arrivare in fondo il più in fretta possibile. E per poterlo fare, da una parte serviva preparazione atletica, perché il carrettino inizialmente bisognava spingerlo prima di lanciarsi, e poi serviva coordinazione per guidarlo lungo la strada man mano che prendeva velocità senza andarsi a schiantare. Quando vide tutto questo, si rese conto che questo sport praticato in Giamaica alla fin fine non era così tanto diverso dal bob. Certo, un carrettino non è un bob, ci sono le ruote invece dei pattini, certo lo si fa sul cemento e non lo si fa in un canalone di ghiaccio, però alla fin fine almeno i movimenti base non erano così diversi, e si mise quindi in testa che forse qualcosa poteva farlo. Secondo quanto si racconta, a seguire questo suo sogno fu lui in prima persona, perché innanzitutto iniziò a prendere dei soldi, pare che stanziò per tutto questo 60.000 dollari, che all'epoca era una bella cifra, dopodiché fu lui di persona ad andare a contattare degli atleti giamaicani chiedendo loro di partecipare. Come vi dicevo, la Giamaica ha una forte storia legata all'atletica, e la prima cosa che fece fu ovviamente di andarsi a rivolgere a coloro, dagli atleti più forti, che già si stavano preparando per le Olimpiadi, ma per quelle estive a Seoul. Inutile dire che la maggior parte di loro rifiutò, rifiutò subito, anche perché una volta capito che cosa fosse un bob, e capito che si trattava di infilarsi in quel piccolo oggetto lanciato a 120-130 km all'ora, la maggior parte di loro gli diede del pazzo, e ovviamente molto spaventati, preoccupati, rifiutarono di rischiare un incidente. Quando però Fitch provò ad andare a chiedere a coloro che invece ad Olimpiadi non ci sarebbero andati, perché nonostante fossero atleti, avevano fallito le qualificazioni, finalmente iniziò a trovare qualcuno che lo seguisse. Trovò tre atleti che accettarono, ne trovò un quarto che era il fratello di uno dei tre, e pian pianino insieme a loro mise insieme una prima squadra. Come vi dicevo nel film, tutto questo viene visto in maniera molto semplificata, con questi quattro che fanno dei tentativi molto strani per riuscire a imparare a usare un bob. Ma Fitch, che aveva a che fare con degli atleti professionisti, cioè non dimentichiamocelo, questi quattro non erano quattro persone raccolte dalla strada, ad un certo punto si unì a loro un quinto che non era un atleta professionista, ma ben presto lasciò, quindi insomma si trattava di persone preparate, Fitch non lasciò nulla al caso, e con quei famosi 60.000 dollari che aveva stanziato, oltre ad acquistare un bob, che sarebbe poi servito ovviamente per le gare, decise di assoldare due allenatori, due allenatori proprio di bob, i quali raggiunsero la Giamaica, fecero fare ai quattro la preparazione atletica necessaria al bob, anche usando dei carretti per simulare i movimenti lì in Giamaica, e poi finalmente nell'autunno del 1987 li presero e li portarono in Canada, dove finalmente ebbero a che fare con un bob vero, e poterono sperimentare per la prima volta la discesa lungo i canaloni ghiacciati. Insomma, è vero come gli atleti poi raccontarono nelle interviste che fino a quell'autunno non avevano mai visto in vita loro un bob, ma è falso che quel bob lo videro per la prima volta alle Olimpiadi, perché in realtà tutto era stato preparato. Ora, l'impressione era che questi quattro si siano iscritti alle Olimpiadi semplicemente perché nessun altro in Giamaica voleva partecipare. Le cose non stanno esattamente così, perché è vero che all'epoca esisteva una regola che permetteva ad almeno un atleta o una squadra di ciascun paese di potersi iscrivere a qualunque specialità. Quindi se nessun altro del tuo paese voleva candidarsi a patto di trovare i soldi per poter raggiungere il luogo delle Olimpiadi, ognuno poteva partecipare. Ma è anche vero che per alcuni sport, tra cui proprio il bob, che ovviamente ha dei rischi, il comitato organizzatore chiedeva che avessero i membri partecipato ad almeno una gara di Coppa del Mondo. E in effetti i nostri giamaicani lo fecero. Raggiunsero l'Austria, dove si stava tenendo una delle gare di Coppa del Mondo, parteciparono, non fecero esattamente un figurone, ma grazie a quella partecipazione ebbero la possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi. A questo punto qualcuno iniziò a rendersi conto che forse tutto questo non funzionava troppo. Ecco che qualcuno furono i membri del CIO, che quando seppero quello che stava accadendo, quando seppero che la Giamaica avrebbe partecipato alle Olimpiadi Invernali nel Bobbe, cercarono in tutti i modi di bloccarli, cercarono di cambiare le regole, cercarono di mettere un tetto minimo per poter partecipare, ma a difesa della squadra giamaicana, che ormai stava diventando un po' la squadra simpatia in tutto il mondo, si schierarono tantissime federazioni, che non solo dissero che, alla fin fine, non avevano fatto una figura così brutta in Austria da dover essere esclusi, ma soprattutto si opposero che le regole venissero cambiate a pochissime settimane dalle Olimpiadi. Ad intervenire, pensate, fu addirittura l'allora principe Alberto di Monaco, che ovviamente all'epoca non era ancora capo del Principato di Monaco, e che anche lui correva nel Bobbe, parteciperà proprio a delle Olimpiadi nella squadra di Bobbe del Principato di Monaco, e se esiste la squadra di Bobbe del Principato di Monaco, perché non può esistere la squadra di Bobbe giamaicana? In realtà, il Cio non si fece solo convincer dalla levata di Scudi, ma andò a controllare come questa squadra fosse stata creata, e quando vide che, anche se erano dei dilettanti, in realtà si stavano allenando in maniera seria, avevano degli allenatori, stavano sperimentando il Bobbe, alla fine si convinsero e decisero di farli partecipare. Quando però fu il momento di arrivare alle Olimpiadi, i nostri si resero conto che i soldi che avevano raccolto non bastavano, o meglio, gli bastavano per partecipare ad una gara, quello del Bobbe a due, quindi con solo due atleti, ma non bastavano per partecipare anche alla seconda gara, cioè quello del Bobbe a quattro, quello a cui in realtà i più miravano, perché era quella più famosa e conosciuta. Ad ogni modo, non perdendosi d'animo, due degli atleti, Mike White e Dudley Stokes, decisero di partecipare comunque alla prima gara, salirono sul loro Bobbe, e, seppur con qualche difficoltà, parteciparono a tutte le quattro manche che componevano la gara. E fecero una bella figura, molto migliore di quella che ci si potesse aspettare. Non solo in tutte le quattro manche furono molto competitivi, non solo riuscirono ad evitare di essere eliminati, di schiantarsi o di quant'altro, non solo in una delle quattro manche addirittura riuscirono a piazzarsi ventiduesimi su 41 squadre, quindi insomma un risultato di metà classifica, mettendo dietro squadre che si allenavano da molti più anni di loro, ma alla fine addirittura riuscirono a strappare un trentesimo posto finale, ripeto, mettendo 11 squadre dietro di loro, insomma facendo veramente un figurone, tanto che diventarono una delle squadre simpatia delle Olimpiadi. A questo punto qualcuno disse che dopo tutto forse quei soldi per partecipare al Bob A4 si poterono trovare. E come fecero i giamaicani per trovarli? Beh, sfruttarono questa loro notorietà, presero delle magliette, iniziarono a stamparci il loro logo, delle loro immagini, e iniziarono a venderle, e man mano che la gente li comprava, riuscivano a incamerare del denaro che gli serviva per mettere a posto il Bob, acquistare l'attrezzatura, a continuare a pagarsi ovviamente la permanenza a Calgary, e alla fine riuscirono ad avere abbastanza denaro per partecipare anche alla seconda gara. Ed è questa, quella forse, che li rese veramente famosi. Si può dire che per questa gara fossero un po' meno preparati, anche perché uno dei quattro era Christopher Stokes, fratello di Dudley, per carità anche lui un atleta, ma che si era allenato molto meno rispetto agli altri, ma ormai che erano pronti decisero di partecipare. Anche questa volta la gara era basata su quattro manche. Nella prima e nella seconda non fecero un gran figurone, finendo praticamente sempre in fondo al gruppo, ma nella terza partirono decisamente più forte, presero un'ottima rincorsa, si lanciarono giù nel canalone, e man mano che correvano una curva dopo l'altra, e il Bob acquistava sempre più velocità, la loro posizione rimaneva costante. Settimi, ottavi, decimi, di nuovo ottavi, insomma, curva dopo curva, sembravano star raggiungendo un risultato insperato. Quando ormai però erano a due terzi del percorso, presero una curva troppo rapida. Forse nel tentativo di recuperare ancora posizioni, o forse semplicemente perché il Bob A4 è diverso rispetto a un Bob A2, e presero la curva troppo velocemente, il Bob si inclinò, sbatterono violentemente sul lato, e con il Bob piegato di lato, continuarono a 120 km all'ora la loro discesa lungo il canalone. Se andate a vedere la telecronaca in inglese di quell'avvenimento, noterete come il primo a preoccuparsi, ovviamente, il cronista. Perché gli incidenti nel Bob, fortunatamente, non ce ne sono tanti. Ma schiantarsi in un canalone di ghiaccio a più di 100 km all'ora può essere mortale. E vedere quattro teste bloccate in un Bob che strisciano lungo quel canalone a quella velocità, fa sempre paura. Una curva, due, tre, quattro, il Bob continua la sua corsa e man mano perde sempre più velocità. Quando finalmente si ferma, e il traguardo è ormai arrivato, sono l'ultimo pezzo di rettilineo, quando finalmente si ferma, i quattro iniziano a muoversi. E la folla che aveva seguito la loro caduta con iniziato sospeso finalmente si rilassa e iniziano ad applaudirli. Alla fine, nessuno dei quattro si farà niente. L'unico che si farà male in quella giornata, anche questo lo vedete dal video, è uno dei soccorritori che correndo per cercare di raggiungerli sul ghiaccio scivolò e cadde battendo una terribile sederata. Ma anche lui, fortunatamente niente di grave. Alla fine, i quattro, mortificati, perché ovviamente, avendo sbagliato in quella mancia, venivano esclusi dalla classifica finale, percorsero l'ultimo tratto di rettilineo a piedi, con la folla che ovviamente, conoscendo la loro storia, li festeggiava e li applaudiva. Alla fine, questa volta, il risultato non era arrivato, ma la loro rimarrà una delle storie più belle di quelle Olimpiadi. Una delle storie, perché a quelle stesse Olimpiadi ci fu un'altra storia bellissima che riguardò un atleta inglese di salto in lungo con gli sci e di detto Veigle. Di lui parleremo magari tra qualche settimana in una puntata a parte, un'altra storia assolutamente bellissima. Quel che è certo è che la loro poteva rimanere una storia semplicemente così, rimà aperta e chiusa in quelle Olimpiadi. E invece non fu così, perché in qualche modo la loro storia divenne un simbolo, un simbolo che realmente, impegnandosi, si potesse raggiungere qualunque obiettivo. E da quell'anno la squadra giamaicana di Bob ha continuato ad esistere. Si è allargata ad una sezione femminile, ha continuato a partecipare alle Olimpiadi e da allora praticamente quasi tutte le Olimpiadi invernali hanno visto dei membri della squadra giamaicana di Bob, ora addirittura di She, insomma espandendo sempre di più il movimento. Nel 1994 a Lillehammer riuscirono addirittura ad arrivare quattordicesimi, quattordicesimi su 30 nazioni partecipanti riuscirono ad arrivare quattordicesimi mettendo dietro di loro nazioni come gli Stati Uniti, uno delle due formazioni italiane, insomma squadre molto più abili, molto più provate di loro che però furono sconfitti. Furono sconfitti da questi giamaicani che frutto di quella prima esperienza del 1988 erano finalmente riusciti a diventare competitivi. C'è una curiosità, come vi dicevo la Fiat era diventata in effetti lo sponsor ufficiale della loro nazionale, era una questione puramente pubblicitaria per carità, ma in qualche modo gli portò malissimo perché sapete quali Olimpiadi non presero parte? A quelle del 2006 a Torino, cioè proprio le Olimpiadi simbolo della Fiat la squadra che loro sponsorizzavano non riuscì a partecipare, insomma le cose sono sempre un po' complicate. Rimane un movimento particolare perché ogni anno continuano ad avere difficoltà a raccogliere abbastanza soldi, nelle interviste lo ammettono che sono dei dilettanti un po' allo sbaraglio che per quanto si allenino, per quanto ora siano molto più bravi rispetto al 1988 continuano ad avere molta difficoltà anche per la difficoltà di trovare i luoghi dove allenarsi, ma dal 1988 ad oggi come dice il loro motto sono ancora la The Hottest Thing on Ice la più calda cosa sul ghiaccio e forse in effetti lo sono e lo rimarranno sempre. Intanto però noi ci fermiamo qua spero sia stata una bella storia credo che assolutamente meriti e devo essere sincero mi affascina più pensare che sia una storia reale di sport e di persone che si impegnano e che danno vita a un movimento piuttosto che ripeto una boutade da film poco reale e insomma sono contento di essere riuscito a raccontarvela. Ad ogni modo come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal perché grazie al loro sostegno anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre più materiale tra cui queste filole di sport a disposizione di tutti in particolare oggi il ringraziamento va ad OP grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto un grandissimo ringraziamento a Matters il nostro bibliotecario della sezione sportiva ci vediamo tra una settimana per altre storie di uomini e sport a presto ciao ciao